Fiumi e laghi Lombardi, il mare della riviera Ligure, è quello che unisce questa lettera di intenti tra me e l'assessore Parolini di Regione Lombardia, insieme al Presidente Totti e al Presidente Maroni, per dare il via a questa collaborazione, che non è basata sull'interscambio di turisti tra Lombardia e Ligure e viceversa, ma per offrire un pacchetto globale a questo mercato del turismo che è sempre più globale e che deve far venire in Italia come meta turistica persone e turisti da tutto il mondo. Quindi noi siamo a oggi, abbiamo iniziato questo percorso che porterà poi alla sottoscrizione di un'intesa vera e propria, che offrirà un pacchetto turistico di un'area molto vasta come è la Lombardia e la Ligure, in cui il turista interessato potrà provare la piacevolezza dei laghi e dei fiumi lombardi e quella del mare e delle due riviere Ligure. Questo perché? Perché riteniamo che promuovere intorno al turismo dell'acqua tutte le eccellenze del territorio enogastronomiche, che sia la Lombardia che la Liguria uniscono insieme alla bellezza architettonica dei nostri borghi, possa creare un prodotto turistico veramente di alto livello e di ampio respiro.